...all'oppressione danza di Pantello E.O. e mi insegnerò il prezzano il nuovo show sarà il nuovo show di Danciata applauso il droga del mondo la maniera quando tu mi dici che tu eras mi reclamo di tant' cose si mi dici che non mi chiusa di più ma non mi chiusa di più Sentimenti riusciti Sentimenti riusciti Sentimenti riusciti Grazie a tutti. Grazie a tutti.